Onorevole Michela Vittoria Brambilla, buongiorno. E allora subito un lancio importantissimo vogliamo fare. Sì, oggi e domani potete aiutare la nostra Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente a garantire il diritto di amare. Perché il diritto di amare è proprio di noi uomini, così come degli animali. E noi abbiamo migliaia di cani e gatti, randaggi, che vivono sulle strade in condizioni terribili. E allo stesso modo oggi, in un periodo così difficile per la nostra vita, abbiamo tante famiglie che vivono in una situazione di disagio sociale o di malattia o di difficoltà. E quindi noi vogliamo essere al loro fianco. Perché anche chi non ce la fa deve poter comunque convivere con un piccolo amico a quattro zampe. Allora chiediamo aiuto a voi, a tutti gli italiani. Aiutateci a difendere il diritto di amare. Inviate subito adesso un SMS solidale al 45589. Il numero che vedete sullo schermo, 45589. Oppure potete anche telefonare da rete fissa, dal telefono fissa. E il nostro pubblico è generosissimo. Quindi accogliete questo invito. Grazie donorevole Brambilla, grazie a voi, aiutate la Leida. E adesso c'è Samia.